Dopo i progetti innovativi introdotti in tutto il territorio che hanno consentito al Comune di Rimini di ottenere il primato in Italia per raccolta differenziata pro capite, 475 chili contro i 189 della media nazionale, ERA, in collaborazione con l'amministrazione comunale, presenta una nuova iniziativa per rendere più belle e vivibili le nostre città. Si tratta del progetto per azione decoro urbano, prima città in Romagna ad attuarlo, Rimini. Verranno infatti collocati in città nuovi ed eleganti contenitori, oltre 230 di carta plastica indifferenziato organico e vetro. I contenitori e le immagini spiegheranno come fare la raccolta differenziata in modo semplice ed intuitivo, utilizzando, oltre alle diverse colorazioni proprie di ciascuna raccolta, anche nuovi contenuti testuali e visivi, fra cui un QR code leggibile tramite smartphone che consente il collegamento istantaneo alla guida per raccolta differenziata. Chi ha l'applicazione scaricata nel proprio telefonino, ma è di uso comune, può avvicinare il proprio telefonino con questa applicazione, si scarica il collegamento e si collega direttamente a quello che è il rifiutologo, che ormai quasi tutti i nostri cittadini conoscono, perché è quello strumento che a casa serve per capire dove va un rifiuto e dove va quell'altro. Ecco, uno arriva davanti al contenitore e non si ricorda più, se ha la possibilità di, se ha la disposizione di questo telefonino, può scaricare questa applicazione e si collega direttamente e ha questo tipo di informazioni. Con questo nuovo progetto ERA contribuisce quindi a rendere la città di Rimini ancora più accogliente all'apertura della nuova stagione turistica estiva. Dopo l'anno scorso, dove è stato attuato un progetto porta a porta nella fascia turistica per le utenze domestiche dalla zona del porto fino a Riccione, quest'anno si sta proseguendo nella zona di San Giuliano Mare fino a Torre Pedrera e a breve il progetto per azione decoro sbarcherà nel centro storico. Questo progetto per noi è un punto in più rispetto al decoro urbano, chiaramente si unisce anche con l'ordinanza sul corretto conferimento. Dal mese di luglio dell'anno scorso sono stati fatti circa 1200 controlli. I controlli sono costanti e quotidiani, sono state fatte parecchie sanzioni, nonché richiami a coloro che non conferivano correttamente, perché purtroppo al di là di quello che può essere il miglioramento della qualità del servizio e quello che è ovviamente le politiche in materia di rifiuti di raccolta, un altro aspetto importante è quello dell'educazione ai cittadini. Quindi partire da una corretta educazione, da un corretto conferimento e siamo noi i primi fautori del decoro urbano.